688 nuovi positivi nella marca e sale a 222 il numero di ricoveri in area non critica 4 in più di ieri e 13 in terapia intensiva con due nuovi accessi di pazienti non vaccinati che erano ricoverati in pneumologia e sono stati trasferiti per essere intubati un'altra vittima. La marca si avvia verso la fase ospedaliera 3 domani riapre il covid hospital al San Camillo con 34 posti letto. La priorità dell'azienda sanitaria ora è accelerare sui vaccini terze dosi soprattutto ma negli ultimi giorni si è arrivati a superare anche le 800 prime dosi al giorno. Adesso abbiamo l'urgenza di vaccinare più gente possibile perché a tanti sta ovviamente passando la difesa anticorpale della seconda dose. Sul fronte tamponi rispetto alle code lunghissime dei giorni scorsi ai covid point oggi è andata meglio. Al Tivole e il Melody praticamente è un flusso lieve io direi quasi lieve non so se è legato al tempo domani avremo l'assalto ancora però di fatto sta di fatto che oggi c'è la tranquillità massima. Per quanto riguarda Oderzo addirittura avevamo il piazzale Minico in piazzali vuoto quasi vuoto e su Treviso diciamo le macchine si fermano i cancelli. È chiaro che su Treviso serve l'apertura a Dosson di Casier del nuovo punto che faremo la prossima settimana tra mercoledì e giovedì. Però devo dire che oggi effettivamente grazie a Dio non ci sono state code e speriamo che domani non ci sia salto di nuovo chiaramente perché tendremo a potenziare comunque l'ex dogana con due linee in più domani cioè il massimo che può fare l'ex dogana. Rimane ancora la criticità dei tempi dell'esito dei tamponi. Tendo anche conto che avendo anche esauriti gli antigenici di quarta generazione cioè le provette che oggi sono arrivate e poi la prossima settimana ne avremo 300 mila per cui avremo risolto il problema noi stiamo aumentando ovviamente i tamponi non avendo gli antigenici di altro tipo. E per cui siamo costretti i molecolari per cui siamo costretti ovviamente a ritardare la refertazione da 48 qualche volta a 72 ore ci scusiamo ovviamente con le famiglie però la realtà è che non avendo disposizione questi sicuramente il laboratorio ha quella potenza di fuoco.